Siamo qui per la sesta tappa del tennis tour nel ciclo Tennis Prati 37 di Pescara dove adesso sta giocando un giovane greco molto molto promettente che è venuto appositamente per cercare di vincere la wildcard per l'ETF 15.000 dollari di Pescara dal 15 al 22 agosto mentre domenica alle 9 cominceranno le qualificazioni all'Aquila del 15.000 dollari maschile con la finale prevista per la domenica successiva alle 10.30 del mattino Il tour sta proseguendo, nel contempo abbiamo anche Carsoli dove stanno giocando le terze categorie Carsoli ci sarà finale il 18 di luglio con l'attribuzione della wildcard per l'ETF femminile 15.000 dollari dall'1 all'8 agosto sempre qui al ciclo Tennis Prati di Pescara Carsoli 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 Grazie a tutti.